go wheelers buah a tutti e bentornati sul canale come sempre qui è il vostro alas che vi parla piacere di rivedervi terzo round della stagione di formula 1 per la one in one racing team di alas adramson gp di pechino cina se non avete visto l'ultimo episodio il round numero 2 il gp di portogallo tondela andate a recuperarlo cliccando in questo momento nell'angolo in alto a destra è arrivata al secondo round la prima vittoria è il primo 1 2 per la one in one racing team in formula 1 cerchiamo di confermare questi grandi risultati questo grande esordio in questa stagione di formula 1 visto che siamo primi in classifica costruttori e primi e secondi con a sorpresa sam rios davanti a sofia floer nella classifica piloti vediamo cosa saremo in grado di fare andate naturalmente a lasciare un like in questo momento iscrivetevi al canale commentate qui sotto iscrivetevi a tutti i miei canali social non dimenticatevi e detto questo ragazzi possiamo partire con questo nuovo episodio possiamo andare al weekend di gara gp di pechino per le nostre qualifiche squillato games non rischiamo ancora ci prendiamo questi 900 mila dollari che sono molto più semplici rispetto a questo milione 100 mila con lo sponsor viking che però è molto molto rischioso visto che dobbiamo solo prenderci la pole vincere non possiamo fare altro e scendiamo in pista per il sabato di qualifiche pechino cina terzo round della stagione qualche nuvola in vista in questo gp vediamo se se arriverà la pioggia potrebbe anche succedere a pechino ci sta iniziamo le nostre qualifiche vediamo il meteo sembra che sia una sessione completamente all'asciutto andiamo subito in pista con sofia floers che spende subito 13 punti con la prima carta e purtroppo sfortunata solo 34 per cento per sofia floers con il primo stint di setup vediamo sam e purtroppo anche sam abbastanza in basso 38 per cento ma dovremmo riuscire tranquillamente effettuare tre giri nel nostro nel nostro ruolino di marcia delle qualifiche un po di traffico troviamo davanti a noi e infatti non stanno facendo i migliori tempi sofia floers e sam rios sofia floers secondo e terzo settore fucsia quindi forse ha fatto meglio inizialmente lando norris però alla fine siamo 1 2 però con pochissimo vantaggio rispetto a tutti gli altri anche schumacher rimane in terza piazza scendiamo subito in pista con sofia floers proviamo a migliorare il suo setup ancora abbastanza sfortunata con il valore delle carte si ferma al 66 per cento dovremmo fare tanto nella terzo prima del terzo giro per migliorare il setup vediamo con sam rios anche lei non fortunatissima con le carte 78 per cento per sam rios meglio della compagnia di squadra vediamo cosa saremo in grado di fare in questo secondo giro lanciato sofia floers primo settore fucsia con sam rios che comunque si sta migliorando anche lei sembra che però sofia floers ancora sia nettamente più veloce naturalmente la vettura migliore delle due e sam rios si ferma a 233 millesimi a 6 decimi di distacco russell in terza piazza che sembra comunque stia ora per la seconda gara di fira stia dando filo da torcia al compagno di squadra purtroppo sofia floers ancora sfortunata con le carte escono carte di medio livello e spende pure tanti punti vediamo comunque dovrebbe riuscire a raggiungere il 100 per cento rischiamo leggermente con quest'ultima carta ma raggiungiamo il 100 per cento setup perfetto per l'ultimo giro con sofia floers dovremmo riuscire tranquillamente anzi ci riusciamo tranquillamente anche con sam rios e pronti in pista per il terzo giro e ultimo di questa qualifica sofia floers fucsia nel primo settore battuta da sam rios attenzione secondo fucsia per sofia floers verde per sam rios migliora sofia floers sam rios si ferma a 333 millesimi dalla compagnia di squadra probabilmente nel primo settore ha fatto la differenza al motore che migliore è quello della vettura di sam rios sofia floers in pole position sam rios in seconda piazza ancora 1 2 su tre gare in formula 1 3 1 2 per la one in one racing team george russer in terza mick schumacher in quarta poi le due ferrari in quinta e sesta con norris davanti alle clerk e poi in quarta fila le due red bull verstappen davanti a estebano con proseguiamo e scendiamo in pista per la nostra gara vediamo le nostre strategie possiamo tranquillamente montare gomma morbida gestirla e poi montare un'altra morbida per finire la gara anche se si potrebbe montare una media ma penso di riuscire tranquillamente a gestire la gomma morbida per fare un doppio stint con gomme morbide gestire un pilota chi sarà davanti farà nove giri nel primo stint e poi si fermerà e monterà le altre gomme le nuove gomme per fare dieci giri viceversa per il pilota che sta dietro quindi molto probabilmente sofia floers e sam rios nell'ordine andiamo a anzi direi di lasciare reazione neutra perché comunque la gomma va gestita andiamo a spingere solo sul carburante in modalità alta gestiamo i tempi del pit stop il cambio gomme e scendiamo in pista si accendono le luci tre quattro cinque parte in questo momento il gran premio di cina pechino con una buona partenza da parte di sofia floers attaccata da sam rios che però rimane dietro passa sam rios che si prende la prima piazza attenzione a russell che prova a mettere sotto pressione sofia floers in quel primo settore sam rios è veramente fortissima giro veloce per esteban o con dobbiamo utilizzare la modalità ibrida ora per difenderci e andiamo direi anche utilizzarle in parte per gestire il carburante con entrambe le nostre pilote per ora sam rios riesce anche a prendere un po di vantaggio su sofia floers sam rios che vuole tenersi quella prima piazza nel mondiale davanti alla compagna di squadra però russell è veramente pericoloso dietro attenzione è anche la gestione del carburante molto migliore quella di sofia floers che però si è girata l'ho persa di vista si è girata sofia floers è crollata in decima piazza non ho visto il momento esatto ma in tre gare secondo testa coda per sofia floers che ora si riprende la decima posizione poi la riperde attenzione ora sam rios lotta contro russell leclerc e o con deve cercare di tenere il suo vantaggio sam rios che sta gestendo anche peggio la gomma rispetto a sofia floers perché ha meno fluidità come caratteristica quindi sofia floers la faremo sicuramente fermare dopo visto che ha gomma migliore sam rios per ora sta riuscendo ad allungare un po su george russell quindi possiamo proseguire dando un'occhiata semplicemente ai tempi e andiamo a spingere un po sul carburante con sofia floers per cercare di farla recuperare e a spingere anche sulla sulla modalità ibrida per cercare il sorpasso su queste reno perché sappiamo che siamo molto più veloci si prende per un momento la nona piazza sofia floers ora prova l'attacco all'interno deve assolutamente spingere ora sam rios ugualmente la facciamo spingere sulla modalità rs per prendere ancora un po di vantaggio purtroppo sofia floers non riesce a passare la rimettiamo in carburante medio e le facciamo anche gestire la gomma per le prossime fasi di gara stiamo iniziando l'ottavo giro di gara stiamo gestendo molto bene la gomma ha perso qualcosina ma molto poco sem rios sembra avere un gran passo può spingere anche sul carburante e poi la faremo molto presto anche spingere di più sulla sulla sulle gomme perché le comunque le sta gestendo meglio rispetto a russell leclerc e anche mick schumacher no mick schumacher è più o meno al nostro livello anche sofia floers comunque sta gestendo purtroppo sempre ferma la in decima piazza sta dando una grande mano alla compagna di squadra per il per mantenere la posizione in campionato e soprattutto allungare sam rios in questo momento la facciamo spingere la facciamo spingere al massimo anche sulla carburante per poter rientrare effettuare il pit stop su gomma morbida naturalmente nella prossima session nella prossima fase di gara gestirà meglio tutti gli altri montano la media tutti gli altri montano la media noi montiamo la morbida perché sono tranquillo di poterla gestire sofia floers deve cercare ora di spingere nel prossimo giro al massimo mentre finalmente riesce a prendere la posizione su albon troppa difficoltà nei sorpassi per sofia floers forse sam rios riesce a rientrare addirittura davanti alla compagna di squadra vediamo dipende dal pit stop è lento 4 secondi per sam rios però forse riesce ugualmente vediamo sofia floers la facciamo spingere ora per per questo ultimo giro prima del pit stop sofia floers è davanti non dovrebbe creare problemi alla compagna di squadra e va a gestire sam rios che ha ora 7 secondi di vantaggio su russell la possiamo anche far gestire la gomma ora per 3 4 giri per averla più in condizioni migliori nella seconda fase dello stint sofia floers prende anche un po di vantaggio prova a recuperare ora effettuare un over cut su tutti gli altri su coloro che erano davanti speriamo in un pit stop veloce speriamo in un pit stop veloce un secondo e 7 buonissimo pit stop per sofia floers che rientra dietro russell purtroppo in sesta in sesta e va bene va bene comunque una buona rimonta dietro mick schumacher sofia floers deve cercare ora il sorpasso sul pilota mercedes mentre sam rios non riesce a passare estebano con che dovrebbe fermarsi ora ora passa sam rios ma sta gestendo la gomma in maniera perfetta ma continuiamo a far spingere ora mette sotto pressione le clerche invece sofia floers prova a mettere sotto pressione le clerche vediamo se riuscirà nel sorpasso sembriamo avere una buona vettura comunque spingiamo un po sulla sul carburante con la pilota tedesca le clerche si prende un po di vantaggio nuovamente mentre rios continua ad avere 5 secondi e 3 di vantaggio su russell può continuare tranquillamente a gestire per avere una gomma piuttosto fresca nelle fasi finali mentre sofia floers è in quarta perché si è fermato con purtroppo sembra non riuscire a raggiungere le clerche quindi la mettiamo in gestione anche della gomma inizia il sedicesimo giro 4 giri alla fine sofia floers scusate prima parliamo di sam rios in prima posizione a rs a volontà a carburante a volontà a 5 secondi di vantaggio su russell e sta continuando a gestire la gomma in maniera impeccabile possiamo anche andare in reazione neutra con lei e arrivare fino in fondo con questa modalità quindi mantenere un buon vantaggio con sofia floers siamo in quarta stiamo gestendo la gomma per la seconda fase vediamo se ora sul dritto riusciamo a passare le clerche per la terza piazza ci potrebbe riuscire spingiamo sul carburante e a brevissimo la faremo spingere anche sulle gomme per tentare il sorpasso su charles clerc ritirato mick schumacher ritiro per mick schumacher sofia floers si è presa la posizione su charles clerc che è crollato non so se ha avuto qualche problema però sofia floers può puntare addirittura alla seconda piazza perché a due secondi da russell è una gomma molto più nuova può spingere ora anche sulle gomme e sul carburante per cercare di rimontare e cercare di confermare un 1 2 che è un certo punto quando effettuato l'errore sofia floers sembrava impossibile siamo al penultimo giro potremmo guadagnare una miriade di punti sulla mercedes con russell che ha seri problemi ora per la gestione delle gomme è passata sofia floers è passata sofia floers in questo momento andiamo a gestire il carburante risparmiamo anche l'ers per l'ultima fase ma sta guadagnando tantissimo la pilota tedesca con sam rios andiamo ad allungare continuiamo a gestire visto che ha comunque 8 secondi e 7 di vantaggio sulla compagna di squadra sofia floers sta comunque limitando i danni dopo il secondo errore in tre gare e noi stiamo comunque confermando un grandissimo risultato andiamo a seguire sam rios eccola nell'ultima curva sam rios va a vincere la sua prima gara in formula 1 a estendere il suo vantaggio sofia floers chiude in seconda piazza una grande rimonta per la pilota tedesca che ha gestito alla grande le sue gomme attaccato quando doveva quindi ancora 1 2 con posizioni invertite rispetto alle qualifiche anche in gara secondo 1 2 di fila ma vince anche la nostra seconda pilota la nostra rookie sam rios ancora primo posto completato vince sam rios davanti a sofia floers eccolo il nostro podio ancora russell a fare compagnia alle nostre due pilote in in sul podio sam rios vince con 8 secondi e 3 di vantaggio su sofia floers george russell poi leclerc verstappen o con norris albon gasli e esteban o con con importantissimo mick schumacher ritirato classifica costruttori 114 abbiamo già 54 punti di vantaggio su mercedes e 59 su scuderia ferrari 62 su red bull racing in quarta piazza classifica piloti sam rios allunga una vittoria anche per lei per la rookie che sembrava dovesse essere la seconda pilota invece vuole dimostrare di essere a livello della compagna di squadra 61 punti per sam rios 8 punti di vantaggio su sofia floers molto lontano george russell a quota 34 il campione in carica mick schumacher ancora in settima piazza quota 26 già doppiato da sofia floers in seconda piazza ed eccoci nella nostra schermata pilota un punto miglioramento per entrambi sofia floers che perde la caratteristica campionessa mentre sam rios perde la caratteristica esordiente continuiamo più 20 alle prestazioni di tutti i componenti gli avvocati di one in one racing team sono stati occupati abbiamo acquisito due fornitori quindi possiamo completare l'australia con marineria di brisbane e possiamo anche andare con trasporti di sinka guang andiamo alla home andiamo ad assegnare i punti miglioramento un punto in partenze per sofia floers un punto in abilità nelle curve per sam rios possiamo tornare alla nostra home dovevamo costruire dei componenti potremmo costruire dei componenti visto che abbiamo abbastanza denaro da parte vediamo cosa di che cosa possiamo occuparci auto di sofia floers il punto più carente sono il cambio e il motore direi di costruire proprio un cambio un motore puntiamo tutto sulla prestazione naturalmente costruiamo il nostro componente 1 milione 900 mila dollari motore che andiamo a costruire ugualmente spendiamo 2 milioni 900 mila dollari in totale 4 milioni 800 mila possiamo tornare alla home arriveranno naturalmente dopo la gara di monaco quindi proseguiamo e arriviamo alla settimana dell'evento inviti mi ero scordato dell'evento inviti quindi per completare direi di andare a selezionare il nostro evento siamo finalmente al campionato automobilistico più importante la formula 1 scegliamo il campionato leggende questo non è un solo evento inviti ma è un evento composto da tre eventi tre gare una gara endurance una gara gt e una gara formula per la nostra nazione l'islanda quindi selezioniamo il campionato leggende andiamo ad accettarlo e naturalmente questo sarà materiale per il prossimo gp per il prossimo episodio scusate questi tre gp saranno materiale per il prossimo episodio gp di yokohama possiamo proseguire tanti puntano su di noi a quanto pare iniziamo le qualifiche e prima di sbagliare andiamo a metterci in pausa salvare il nostro la nostra partita il nostro episodio dell'evento inviti detto questo ragazzi io vi lascio vi ringrazio per la visione di questo episodio vi invito come sempre a lasciare un like a commentare iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti vi aspetto per il prossimo episodio gli eventi l'evento a inviti cercherò naturalmente di fare un episodio della stessa durata non sarà semplice sarà sicuramente molto molto ridotto nelle nelle gare visto che comunque dobbiamo affrontare ben tre gare vediamo cosa saremo in grado di fare in questo evento inviti nella massimo al massimo livello possibile vi ringrazio ancora per la visione appuntamento all'evento inviti prossimo episodio di questa splendida serie dedicata alla one in one racing team di alas adramson alla prossima ciao ragazzi ciao